Musica Benvenuti a Artigie 10 in apertura del telegiornale, oggi c'è la pagina politica, vi riferiamo della conferenza stampa tenuta oggi a Gela dal Partito Democratico, espresso giudizio negativo sull'amministrazione comunale ritenuta confusa e improvvisata, continueremo hanno detto a rimanere all'opposizione, il PD sarà il primo partito in Consiglio Comunale a proporre la mozione di sfiducia per mandare a casa il primo cittadino e i suoi seguaci, vediamo Questa amministrazione è confusa e improvvisata, il nostro è un giudizio negativo, continueremo a rimanere all'opposizione, lo sostiene il Partito Democratico che nel pieno della sua riorganizzazione torna nel cuore dell'estate a prendere le distanze dalla giunta mersinese e dice che sarà il primo partito in Consiglio Comunale a proporre la mozione di sfiducia per mandare a casa il primo cittadino e i suoi seguaci, annuncia inoltre di voler andare nella primavera del 2018 al voto anticipato e accusa i 5 Stelle di avere provocato lo sfascio della città. Un'amministrazione che si era presentata all'insegna del cambiamento e che avversava e contestava con il sistema di gestione della cosa pubblica delle passate amministrazioni, questa amministrazione non solo ha ripristinato quel sistema di gestione di potere ma lo sta alimentando. Lo dico per asquanto di equivici, non siamo assolutamente interessati a nessun ingresso in giunta e vogliamo spegnere le polemiche e chi sta cercando di strumentalizzare queste voci politiche. Non siamo noi i responsabili di questo disastro, ha detto il segretario Peppe Di Cristina. I 5 Stelle dovrebbero scusarsi con la città, mentre il PD continua a cercare l'unità perché grazie anche alla luce della riforma elettorale appena votata dall'Assemblea regionale siciliana il partito di Renzi sostiene di avere a Gela tutte le carte in regola per poter ritornare a governare la città. Il Partito Democratico da sei mesi è assolutamente centrale nell'attività politica della città, lo abbiamo dimostrato prendendo in pieno e con responsabilità l'appello fatto al segretario nazionale nella raccolta delle firme, nella costituzione dei comitati, nell'organizzazione del partito, nella rifondazione dei giorni democratici. Lo dimostriamo insieme al gruppo facendo un'opposizione seria, intransigente e coerente a questa amministrazione. Ma nel frattempo ci sono delle problematiche da affrontare. Le emergenze importanti sono due, uno intanto il porto, l'avete sentito, è la notizia del giorno, resta l'ultima fase. L'ultima fase consiste nella firma del protocollo d'intesa tra il Presidente della Regione, il Sindaco e l'Eni, in cui si mettono materialmente i soldi all'ingegnere Foto, il capo della protezione del civile. Da lì si avvieranno tutte le fasi che porteranno al dragaggio del porto di meno 4 metri e all'allungamento del braccio di sottoflutto di 120 metri. E risolverà il qui e ora del porto. Poi ci sarà il grande porto ed è un'altra cosa. Seconda questione, noi abbiamo la necessità immediata. Siccome non ha piovuto, acqua non ce ne ne le dica. Com'è che risolviamo il problema? Noi abbiamo due opzioni. Una, che abbiamo lanciato noi, che ha ripreso l'amministrazione, è l'acqua online, cioè l'acqua del depuratore che viene utilizzata per ricaricare i cambi. C'è già il progetto di massima. Bisogna trovare i soldi, dopodiché intervenire per avere l'acqua del ragoleto per uso in rigua. Queste sono le due emergenze di cui ci dobbiamo occupare immediatamente. Intanto per aria civica gelesi in movimento, Messinese ed il suo staff non possono più navigare a vista in attesa di capire se chi dei 30 che siedono in Consiglio Comunale avrà il coraggio o meno di rinunciare alla poltroncina per mandare tutti a casa, ridando parola al cittadino sovrano all'interno delle cabine elettorali. La sfiducia nei confronti del sindaco domenico Messinese e un ritorno alle urne potrebbe essere appetibile ad entrambi gli schieramenti centrodestra e centrosinistra, anche in virtù della nuova legge elettorale che è stata decisa a Lars, senza considerare il Movimento 5 Stelle che ha preso le distanze da Messinese dopo appena sei mesi. Per cui è meglio che il primo cittadino si apra al confronto e governi con chi mostra trasparenza. Lo dice Filippo Guzzardi, portavoce di aria civica gelesi in Movimento. Fra dieci mesi termina il periodo di due anni in cui il sindaco non può essere sfiduciato. Con l'approvazione recente delle modifiche alla disciplina elettorale siciliana a Lars, hanno pensato di reintrodurre l'effetto trascinamento delle liste. Il voto alla lista va automaticamente al candidato a sindaco, favorendo le coalizioni e penalizzando le singole liste che non si coalizzano. Inoltre, il candidato a sindaco può essere eletto al primo turno se oltrepassa la soglia del 40% dei voti validi, non più il 50% più uno. E alla coalizione o lista che lo ha sostenuto scatta un premio di maggioranza fino al 60%. Guzzardi sottolinea che è giunto il momento che il sindaco di questa città rompa agli indugi e dica ai suoi concittadini come e con chi vuole continuare a governare Gela e i suoi tanti problemi che l'affliggono quotidianamente. Il primo cittadino vuole reterare la gestione comunale di questi 14 mesi? E' contento e soddisfatto di quanto fatto finora? Lo spiega Gelesi e prove a dimostrarlo con argomentazioni serie e convincenti perché la situazione in città rimarca guzzardi e drammatica e nel frattempo sul piano legislativo sono intervenute alcune novità. Per quanto ci riguarda è evidente che con i suoi fedelissimi che gli sono rimasti accanto Messinese non ce la faccia. Nessuno mette in dubbio l'impegno profuso dal primo cittadino, dagli assessori e dai suoi collaboratori a vario titolo, ma non è sufficiente e i risultati parlano da soli. La linea di continuità con la precedente amministrazione, senza rappresentare peraltro un'evoluzione in senso migliorativo, è sotto gli occhi di tutti, specie in quelle fondamentali e sensibili problematiche in cui la sua elezione avrebbe dovuto rappresentare un dirompente elemento di rottura. Ci riferiamo, dice Guzzardi, alle questioni della reconversione industriale e occupazionale, l'erogazione del servizio idrico, lo smaltimento dei rifiuti soliti urbani, la portualità, il PRG, la tassazione e con essa delle tasche sempre più vuote dei gialesi. Per Guzzardi, Mersinese e lo suo staffo non possono più navigare a vista, in attesa di capire se e chi dei 30 che siedono in consiglio comunale avrà il coraggio o meno di rinunciare alla poltroncina per mandare tutti a casa, ridando parola al cittadino sovrano all'interno delle cabine elettorali. Il sindaco chiude Guzzardi, elabori e sottoponga un progetto a chi volesse eventualmente condividerlo, non sotto banco, come in tanti già sospettano, ma alla luce del sole, provando a dare una sterzata a questo stato di inerzia in cui questa città è costretta da anni nel continuo rincorrere senza mai risolvere vecchie e nuove emergenze. L'avvocato gialese, Patrizia Comandatore, è stata letta nel coordinamento regionale dell'Udc assieme ad altri sei rappresentanti della provincia di Sena. Ci sono anche Angelo Bellina di Riesi, Orianna Mannella di Caltanessetta, Marisa Montalto, Monella di Sutera, Valerio Ferrara di San Cataldo, Enzo Paradisi di Miscemi e Luigi Pucci di Butera. La mia reazione nel coordinamento, ha detto Patrizia Comandatore, testimoni all'interesse rivolto a Gela dall'Udc. Nella qualità di componente del coordinamento regionale cercherò di dare voce, in particolare, portando alle istituzioni regionali le istanze e le esigenze della mia città che vive un periodo difficile. Il Cipe ha sbloccato 57 milioni di euro per 19 interventi sull'isola. Sono previsti il finanziamento di 19 interventi dei cantieri della cultura, tra i quali 4 interventi del valore complessivo di 4 milioni di euro interessano il Parco archeologico di Gela, auspichiamo dicono il deputato regionale Giuseppe Arancio ed il direttivo locale del PD che gli atti propedeutici all'utilizzo delle somme vengano predisposti nell'immediato, in quanto tali interventi sono finalizzati alla valorizzazione del sito archeologico di Gela e produrrà refluenze positive in termini di aumento dei fruitori del nostro sito con ricadute positive sull'economia locale. Cambiamo argomento e adesso occupiamoci dei lavori allo stadio Vincenzo Presti di Gela. Iniziano i lavori qui allo stadio Vincenzo Presti, lavori che al momento riguarderanno l'impianto elettrico e altre piccole cosette, il grosso diciamo del manterboso si farà tra una settimana dopo ferragosto. L'intervento è più ampio, prevede anche la zona per gli addetti alla stampa, l'impianto di amplificazione, l'intervento più grosso come è stato detto riguardo il manterboso, ma l'obiettivo è quello di arrivare ai primi di settembre con tutti gli interventi richiesti dalla Lega per consentire al Gela di giocare in Serie D che siano completamente eseguiti e consentire quindi di avviare le partite in campo. In realtà abbiamo fatto un'analisi più ampia del Presti dove ci saranno una serie di miglioramenti che riguardano un po' tutto il campo, ma questi li andremo a fare in un secondo tempo. Ora la cosa importante è quella di adempere tutto quello che è stato richiesto dalla Lega per avere l'omologazione del campo. Qualche settimana fa avete diffuso un comunicato stampa, diciamo così, congiunto con la società Bianca Azzurra per quanto riguarda l'affidamento dello stadio appunto al Gela Calcio, a che punto è l'iter per affidare la gestione? Io credo che la cosa più importante è quello di completare tutte le opere e far omologare il campo per la Serie D che è l'obiettivo primario. La gestione del campo credo che sia un obiettivo secondario che comunque serve per poter far giocare il Gela a Gela e di lasciare il campo in una condizione decorosa ed evitare situazioni che negli altri anni si è verificate invece di trovare il campo sporco e non ben manutenzionato. Infatti quando parliamo di interventi costanti sul Presti è che in tutto il 2016 in realtà ci saranno tutta una serie di interventi a seguire proprio per togliere tutta una serie di criticità che abbiamo trovato e che anche se non ci è stato richiesto vogliamo farlo perché lo dobbiamo ai tifosi e lo dobbiamo alla città. Abbiamo già intrapreso alcune iniziative già dalla fine del campionato con l'intervento della Lega che è venuta a fare un sopralluogo per verificare quali erano i lavori urgenti indifferibili da effettuare. Abbiamo già preso contatti con la ditta che appunto sistemerà il manto erboso, stiamo aspettando gli aspettamenti burocratici per poter poi giustamente affidare secondo la norma di legge eventualmente il lavoro e l'intervento da effettuare. Per il resto abbiamo già iniziato qualche giorno con l'impianto elettrico e per la messa in sicurezza di alcune situazioni e con le tribune stampa. Nasce a Gela la prima associazione autistica, si chiama Anautismo e raggruppa familiari dei soggetti autistici nonché i sostenitori. L'associazione è presieduta dall'ingegnere Antonino Biondo. I riflettori sull'autismo si sono accesi a Gela con il Blue Day quando molti familiari di ragazzi affetti da autismo con grande dignità hanno chiesto aiuto alle istituzioni. Poi lo ricordiamo il traguardo raggiunto da Samuele di Natale che è riuscito a diplomarsi e a commuovere l'Italia intera. Adesso come dicevamo nasce una associazione affinché nessuno venga lasciato solo. Attendono ancora i buoni pasti circa 260 dipendenti dell'ex provincia di Caltanissetta, oggi libero consorzio comunale, che prestano servizio su cinque giorni con un rientro pomeridiano. Ogni dipendente infatti vanta una somma pari a circa 450 euro. Stanchi di non ricevere risposte dall'ente, 30 di questi lavoratori si sono rivolti al segretario generale della funzione pubblica della CISL, Gianfranco Di Maria, che ha così mandato un atto di diffide e messo in mora al commissario straordinario Rosalba Panvini. Noi vogliamo riconosciuto e dando un diritto. Questi buoni pasto sono in credito da quasi due anni. Abbiamo aspettato fino ad oggi perché ci siamo resi conto che l'Ende non aveva le risorse. Invece abbiamo deciso di fare l'atto di diffida con l'ufficio vertenza della CISL, quindi con l'avvocato in baglione, perché in una riunione sindacale la dirigenza, uno dei dirigenti, ci ha detto che questi soldi li avevamo persi, li avevamo persi come personale. E a noi sembra assolutamente ingiusto perché il personale in servizio già ha avuto ridotto i giorni di rientro per i quali c'è il buono pasto e soprattutto per i quali si dà un servizio. Noi eravamo già contrari a ridurre da due a uno il giorno di rientro, torno a dire, perché di pomeriggio riteniamo che gli uffici possano essere più a disposizione del cittadino. Il cittadino quando c'è il lavoro di mattina lavora, quando non c'è il lavoro è inutile che va alla provincia, se non per l'assistenza ai portatori di handicap. Quindi c'è un solo rientro pomeridiano, per quel rientro il dipendente ha diritto al buono pasto, che non gli viene corrisposto è un problema di carattere economico, ma se gli si nega il diritto diventa un problema di carattere sindacale e di riconoscere quello che è una giusta ricompensa, tra virgolette, per la pausa pranzo. Parliamo di 7 euro a buono pasto, non stiamo parlando di 70 euro un pranzo completo. Con 7 euro è possibile fare uno spuntino. Il Comune non paga le bollette all'Enel e l'Enel per tutta risposta abbassa il voltaggio dell'energia elettrica. E quanto successo alla Residence Agave, alla periferia ovest della città, sulla statale Gela Licata, di fronte a Montelungo. La denuncia è del consigliere comunale di un'altra Gela, Toto Sammito. Tutto questo, afferma Sammito, è inammissibile specie per i residenti che puntigliosamente pagano le tasse. Considerato il periodo estivo in cui molti vanno in ferie, tutto questo diventa occasione ghiotta per i ladri d'appartamento, ma è anche un disagio per coloro che non vanno in ferie e hanno dei bambini privati dalla possibilità di giocare all'aperto. Oggi, venerdì, dalle 22 alle 5, parliamo di raccolta differenziata, a depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? I avanzi di cibo ed ancora di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso ed ancora pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta, unti, carta assorbente usata, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. L'organico deve essere depositato, come dicevamo, all'interno del sacchetto compostabile dalle 22 alle 5 anche nei giorni di domenica, martedì e giovedì. Intanto la Tecra ha attivato su tutto il territorio cittadino la raccolta di pannolini e pannoloni per utenze domestiche. Trattandosi di un servizio supplementare e distinto da quello ordinario, lo stesso va attivato facendone richiesta all'ufficio ecologia del comune di Gela. Gli interessati potranno richiedere tutte le informazioni utili chiamando il numero 0933 906 144, lo ripetiamo 0933 906 144. Il servizio prevede la raccolta di pannolini e pannoloni tre volte alla settimana, martedì, giovedì e sabato. Ci fermiamo, linea alla regia per la pubblicità. Seconda parte del telegiornale, proseguono gli appuntamenti con l'estate gelese, oggi alle 21, nello spazio antistante, la parrocchia San Rocco, serata di liscio con l'associazione Sergio di Dio e nei pressi della chiesa madre, lato sud, concerto live rock legend a cura dell'associazione Gelica Folk. Semifinale finalissima del torneo di tennis Maglio Moriconi si terranno nella splendida location del club nautico di Gela, si contenderanno il prestigioso trofeo giunto alla sesta edizione i migliori tennisti siciliani. La finale è prevista per domenica 14 agosto alle 17. I risultati sono molto lusinchieri, la chicca è sempre rappresentata dalla presenza dei giocatori delle racchette più rappresentative siciliane, quindi giocatori atleticamente più preparati, appartenenti ai circoli tennistici più prestigiosi della Sicilia. Questo è chiaramente l'imbronda, la valenza che ha in più rispetto agli altri tornei questo Memorial. Quest'anno il nostro Memorial assume una particolare valenza perché è venuto a mancare qualche mese fa il patron, per così dire, del tennis gelese e siciliano, Roberto Romagnoli. Era un nostro punto di riferimento, è stato un punto di riferimento per tutti i tennisti siciliani, in quanto era anche vicepresidente del Comitato regionale siciliano, oltre tesoriere, e curava il settore giovanile del tennis siciliano che ha avuto così tanti successi. Mi proverò a giocare una bella partita, oggi soprattutto, e poi man mano semifinale è finale, via dicendo. Ci sono tutte persone comunque che conosco da una vita, oramai siamo sempre gli stessi siciliani, quindi ci incontriamo sempre le stesse persone, però in diversi tornei, sia in terra sia in l'Induro. Sono tra i quattro giorni che sono qua e quindi spero di dare il massimo e di non perdere subito. L'evento, sponsorizzato da alcune aziende locali, è gratuito e pubblico. Tutti gli appassionati possono partecipare alla manifestazione che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi del panorama tennistico regionale. Il torneo è un modo per, diciamo, contribuire a tenere vivo il ricordo di mio padre, che era un grande appassionato di questo sport e possiamo dire che in un certo senso ha contribuito alla diffusione del tennis anche all'interno del nostro club. Il nostro obiettivo è sicuramente quello di fare ogni anno sempre meglio e migliorare sia a livello organizzativo che anche di monte premi. Pareggio 1-1 del Gela ieri nell'amichevole giocata al Presti contro l'Akregas, formazione di Lega Pro. Un buon test per la truppa allenata da Totò Bruccoledi che tornerà in campo domani sempre al Presti per affrontare alle 17.30 in la città di Ragusa. Intanto continua la nostra carellata sui nuovi giocatori bianco-azzurri. Oggi conosciamo il difensore Emanuele Trofo. Trofo arrivi da una piazza importante, Siracusa, che militare nella Lega Pro, arrivi in un'altra piazza importante, il Leggio da Calcio, che per anni ha disputato il campionato di Slecci, quest'anno affronta quello di Slecci, che poi non è altro che l'anticamera del professionismo. Con quale spirito, con quale auspicio hai subito detto sì al direttore sportivo Martello? Ho risposto sì perché la Sicilia prima di tutto mi porta fortuna, quindi ho vinto dei campionati e il direttore mi ha già da un mese che mi ha contattato. La mia disponibilità c'era, poi conoscendo anche la persona, il presidente, con buono affini, i malizionassi, i miei compagni che già l'ho avuti nel precedente piazza e mi hanno parlato benissimo di questa piazza e io l'ho accettato subito. Ecco, ma con quale spirito cominciate il campionato? Già in ritiro avete fatto delle cose importanti, avete amalgamato un gruppo, però è chiaro che il campionato è tutt'altra cosa. Sì, sì, si sta formando un grande gruppo e stiamo rispondendo ai carichi del mister ovviamente in queste settimane, ovviamente ancora la gamba pian piano, pian piano stiamo rispondendo ai carichi del mister, solamente che bisogna solo lottare per questa piazza perché è una piazza che merita tanto, mi hanno parlato bene, quindi poi a me piacciono belle piazze, quindi ho accettato subito. Ecco, ma cosa ti hanno detto i tuoi compagni, noi compagni Nassi Bonafini proprio di Gela e del Gela Calcio? Bonafini mi ha detto, vieni subito, soprattutto per la società, per la piazza, poi parlando anche col direttore, niente, sono venuto, prima di tutto perché il Gela merita altre categorie importanti per la piazza, ho visto l'ultima partita che ci furono 6.000 persone, quindi cosa stiamo parlando? Ecco, cosa promette ai tifosi, ai tifosi biancazzurri che hanno un legame viscerale con il Gela Calcio? Io prometto la mia grinta, la mia umiltà, il mio lavoro, io penso che il lavoro quotidiano della settimana e poi ti ripaga la domenica, io prometto solo lavoro e impegno per questa maglia. Concerto lirico del duo Giuliana Consiglio, soprano e Fabrizio Aquilina Pianoforte domani alle 21.15 in l'ex monastero delle Benedettine nell'ambito dell'iniziativa l'estate gelese con la musica colta, lo ricordiamo, promossa dalla associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra in collaborazione con il Comune. Appuntamento col teatro oggi alle 21.30 all'antitodo di Macchitella, di scena la compagnia teatrale Cast in Non ti conosco più. Il costo del biglietto, lo ricordiamo, è di 5 euro a coppia. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie per aver guardato il video.